Ogni follower o iscritto lo schermo si rimpicciolisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore forto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Grazie a Mauro Cosmai, ok questa challenge non sta iniziando bene Diciamo così, però ok siamo comunque fiduciosi Grazie mille per il follow man Comunque ragazzi vi ricordo che Cocco, Salamo e Nick sono dei ragazzi con i quali spesso gioco in live Quindi se anche voi volete giocare con me e avere magari la possibilità di registrare un video con me Vi ricordo che in descrizione nella sezione live streaming C'è il link per iniziarmi a seguire sul canale dove appunto faccio le live È sul sito Viola, non è qui su Youtube Quindi mi raccomando fatelo, altrimenti vi perderete tutte le live in cui giochiamo assieme Siamo tra l'altro in live ogni sera alle 21 Ok raga, io non mi pare ci sia gente, non vorrei portarmi sfortuna da solo Tra l'altro Genitz è un follow quindi lo schermo si è già rimpicciolito, riperoni Sì sì raga, veloci, veloci, easy, easy, fate tutto voi il vault tranquillamente non lo prendo, easy Cosa intendi scusami, fammi capire Grazie a SissioGamer per il follow ragazzi gente, ragazzi gente Sì da me, non so dove si è andata, sta in giro e è arrivata in questa zona No no, è gente, è gente, ha costruito, non ho costruito io quindi Ok una terra, anche se il bot si è incazzato e ha sparato me poi Ok, grazie a Frattura, grazie a Gabriele, grazie a SissioGamer per il follow Forse già ho usato l'altro prima, comunque lo schermo si sta rimpicciolendo ragazzi a poco a poco Raga, qui sta, ah i compagni stanno a sinistra ragazzi, i compagni stanno a sinistra, proprio da un'altra parte Ci possiamo pushare volendo Raga, pozza grande, lascio pozza grande Lascio qui, ok no, sta facendo già salamo Raga, quando volete salite sull'elicottero Ok ragazzi, la FortuGamer Airlines sta partendo per raggiungere la zona di Celtisprings e eliminare il team Ragazzi, non so se avete notato, ma i miei compagni stavano andando con tanta tranquillità Perché nel game di prima si sono atterrati avvicinandosi semplicemente all'elicottero Cioè l'elicottero li ha atterrati e non si è capito perché Quel tipo evidentemente, ma era, era un nemico? Ah era crashato, eh sì direi Ok, va bene Ma non lo so, questi tipi stavano fermi, ci hanno visto e hanno detto vabbè lasciamo stare, tanto perdiamo Ok, elicottero sei calmo eh Ok, vai raga salite Vai, aspetta raga con calma, state attenti solo alle eliche, principalmente alle eliche Ok, io forse sono quelle il problema, non lo so, non ho capito Grazie a Squallo per il follow, grazie a Leopeo per il follow Frenzy raga, gente Là, là, ragazzi là Solo uno, io ne vedo uno, ne vedo due, ne vedo due Uno sul campo davanti Ti piace l'elicottero? Oh, elicottero, elicottero non funziona più Gente là ragazzi? Vabbè massacrato, massacrato White ragazzi Grazie a Lollinoz per il follow Vabbè raga, non sa neanche più su che pianeta è, cioè, poverino Ma non ho capito, dove sta? È scomparso Probabilmente quelli sui compagni, aspettate, provo a lanciare dentro Infatti che mi hanno fatto danno, infami Dai Ma dai, mi è andata pure bene Ma che stanno a fare questi? Perché giocano così male? Vabbè, riperoni Madonna Non so di cosa tu stia parlando Sta arrivando un altro elicottero comunque Mamma mia ragazzi Allora ragazzi, l'elicottero sta lì Se avete jump gli busciamo, sincero Aspetta, risalgono, risalgono Non ha senso, non ha senso Aspettate Vai ragazzi, andiamo sull'elicottero Ce l'andiamo a prendere Grazie a Ryan Diba per il follow Ok ragazzi, è lì Fugge, fugge No ragazzi, sta pure gente giù Ok, ok Aspettate, scendo Scendo perché non voglio fare uno scontro Oppure un team sotto Però il problema è che Quelli, capito che stanno facendo Stanno facendo L'assalto dall'alto Quindi Ma che cavolo Io Ragazzi, io non ho capito niente Io ho visto solo 5 persone a terra L'altro team ragazzi, sta arrivando L'altro team sta arrivando 62, 1 headshot 1 fermo Quindi credo che lo eliminerò Dai, che noia Un altro a terra Ah ragazzi, manca l'ultimo Manca l'ultimo Con calma Non fate eliminare salamo Ok Rianimo cocco Rianimo salamo man Questo è stato un fight molto carino Perché credo che ci fossero circa 3 team oltre a noi Ragazzi, pozza grande Pozze piccole Facciamo in fretta raga Che poi ce ne andiamo Dai Grazie a Gabri per il follow Grazie mille Ma erete li posso dare Per caso voi avete piccoli raga Grazie a Davi Davi Gamer Per il follow Ok ragazzi, pronti? Vai raga, vi voglio carichi Vi voglio carichi Che tra l'altro sta pure la safe Ok, dall'altro lato Andiamo No ma è Ci è andato molto bene Ci è andato molto male Ok raga Grazie a Tiusere per il follow Grazie Accomparema K-N-G-L Grazie all'espo Vabbè sì Ciao Ciao Schermo È stato un piacere È stato un piacere Schermo È stato un piacere Averti avuto Guarda Colpito 126 A terra Stanno pure là Ragazzi Stanno pure là Sì ma costruite Cioè Perché non costruiscono Cioè 126 però Quello è redshot A te Scusami Ok Vabbè Vai raga Lootateveli Poi andiamo in safe Grazie a Teotec Per il follow Vabbè vabbè Ciao raga Cioè Vabbè Ciao Ciao Grazie a Jack No vabbè raga Inutile Cioè Io non so neanche più Perché sto giocando Secondo me Non si vedrà più nulla Secondo me Non si vedrà più nulla Cioè Ma specialmente Se le persone Sono da mobile Specialmente Se le persone Sono da mobile Non si vedrà più nulla Salite raga dai C'è ancora gente Che spara Tra l'altro Da lì Da lì Da lì Ci mettiamo in high ground Ci mettiamo in high ground Aspettate Piatevi di high ground Ragazzi Sta arrivando pure un tizio Da sinistra però Eh 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 Ti ha eliminato L'elicottero Serio Venitevi di eliminare Quello ragazzi Poi abbiamo anche Un elicottero Alle spalle Si vabbè Ma eliminare Il tizio Ci ho provato Grazie a fra Per il follow Vabbè ragazzi Non commento Neanche più Ragazzi Io ho preso L'elicottero Se volete salire Vai salamo Vai Arrivo Arrivo Grazie ai pali Per il follow Ce la faccio Ce la faccio Dai 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 Grazie Alessio Per il follow Questa cosa Sta finendo male Aspettate ragazzi Scendo 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 Di prepotenza Si mi ha fatto male Anche a me L'elicottero Vabbè Questo non l'ho neanche colpito Stavo notando l'elicottero Che mi stava affadando Rip Raga Questo elicottero È intoccabile Lasciate stare Non è più cosa Dai Grazie Ciro Grazie Alessio Grazie a Cree Grazie a tutti ragazzi Quelli nei ground Non si fanno Colpire Facilmente 315 A terra Pushate Raga Pushate Pushate Tanto sta messo male Confermato Confermato Vabbè Siamo in 9 ragazzi 4 contro 5 4 contro 5 Non so dove voglio andare Però Vabbè Tanto che avete 3 jump Possiamo avere un po' più di mobility Esatto In questa partita Ha fatto più danni L'elicottero Che le persone In realtà Anche in quella di prima Anche in quella di prima Però Qui si è distribuito il danno Ragazzi Qui si è distribuito Lì si voleva vendicare Tutte le volte Che non ho detto La fortuna di game airlines Sta per partire Grazie Ermi on twitch Per il follow Tra l'altro ragazzi Altro follow Vabbè Ormai Non si vede più niente Anche se ho rimpicciolito Al minimo Credo che ormai Non si vede più niente Dai Ragazzi La gente sta lì Sta sia sopra Sia sotto Ragazzi Sono due team Vabbè ovviamente Perché C'erano cinque C'è Sì sì Sono due team Sono quattro Quindi sarà forse Due due Tre uno Non lo so Quello sembra da solo Sta pure a curare No tranquillo Ma è tranquillo Ah ok Arrivata Ragazzi Provo a flencare Questi Che questi Li dovrei eliminare Con una facilità Incredibile Ok Era solo Ragazzi Il team È da tre Ma il team È da Tre sì So ancora Fare calcoli Wow So ancora fare Le edizioni Mamma Eh Ah vabbè Il problema È che pushare Su questi È un casino Sì sì A parte che esatto Devono per forza Prendere la funivia Anzi ora vi faccio una scala Così se si sentono in difficoltà Almeno scedono da questa Ragazzi Scendete da qui Tranquilli Tranquilli Vi aiuto io Vi aiuto io Scendete No ma come Perché Perché scendete da lì Non ha senso Ma vi avevo fatto la scala Mi avevo Mi sono offeso A parte che mi sono preso Tanti di quei danni Grazie a salamo Per Per le vende Ragazzi 26 kill 26 kill Tra l'altro Cioè Ah raga picchioniamolo Picconiamolo Picconiamolo Dai Aspettate Gli push Cioè Raga veramente Picconatelo solo Picconatelo solo Panico C'è un fucile a pompa È pericoloso Raga è pericoloso Attenzione No raga Non sparate Non sparate Non sparate Picconiamolo Picconiamolo Picconato Picconato Picconiamolo Pirata Picc fourteen Cap�� Picgomisi Un 뿐 Picconio Picconia